In questa puntata, Sanità approvata la prima variazione di bilancio, Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023 della regione. Il provvedimento passa maggioranza con 23 voti favorevoli e 12 contrari. Si tratta di una traslazione di risorse per 46,92 milioni di euro che passano dal titolo spese correnti a spese in conto capitale. Circa 9,7 milioni di euro sono recuperati dalla disponibilità dei fondi di riserva, mentre il resto 37,85 milioni di euro da risorse regionali di spesa corrente, accantonate a garanzia del pagamento delle rate di mutuo del servizio sanitario. Sì, è un intervento importante perché con questa variazione noi riusciamo a chiudere il bilancio 2022, che quindi così è completamente coperto. Ovviamente questa variazione ci ricorda nuovamente che vi è un problema che non è della Toscana ma è nazionale e che anche i media stanno affrontando finalmente in maniera adeguata, cioè sul finanziamento del sistema sanitario nazionale. L'Italia finanzia circa il 6,3% dei PIL, il sistema sanitario nazionale, contro il 9,8% di Germania, di Francia, contro il 7,5% della Gran Bretagna. Vuol dire cioè che noi avremmo bisogno a livello nazionale di 40 miliardi in più sul fondo sanitario, se volessimo essere pari di Germania e Francia o almeno 20 se volessimo essere al pari dell'Inghilterra. Questo è il vero tema che noi abbiamo di fronte, altrimenti le regioni saranno sempre costrette a dover fare variazioni, adeguamenti ma che tentano di mettere una toppa rispetto al grande problema che è un vero finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano e si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che si sono acuite con il Covid, però rimangono, permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva e a questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari e poco importa che in questo momento e solo in questo momento la giunta regionale invochi un intervento del governo perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal fare in quanto era al governo e soprattutto considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali, numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto, problema di personale, di OS, la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona, Corte dei Conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa, vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa unita a quello che ho elencato prima, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari, sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione è permanente, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra e anche su temi che riteniamo fondamentali come il federalismo e il regionalismo differenziato in realtà si fa più politica che veramente confronto tra le parti. noi ci siamo, ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Una valutazione pessima nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della regione toscana in ambito sanitario, mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario rispetto alla quale la regione toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Il governo Meloni è il governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana, chiaramente di quella Fondo ne viene una quota parte anche alla regione toscana e così riesce la regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni. Naturalmente è una valutazione negativa anche perché è ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di mezzo miliardo di euro, un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo a montare di risorse destinate alla Toscana che però non vengano diciamo destinate nel modo giusto quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in due anni e mezzo noi non l'abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. Sì, una valutazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità, che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana, che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità che non serviva a aumentare le tasse. Su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito. Io in primis durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse a aumentare addizionale IRPEF e che le risorse si potessero trovare. Oggi queste risorse vengono trovate e la sanità dimostra ancora una volta, a fatica, quello è vero, ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti, ma questo lo trova perché ovviamente eroga un livello di servizio molto alto, un livello di qualità che deve migliorare, soprattutto rispetto all'assistenza dei territori, ad alcune risposte rispetto alle liste di attese e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza, un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. L'assessore, rispondendo all'ennesima interrogazione di Forza Italia, è venuto in aula dicendo che presso la conferenza delle regioni si è mosso qualcosa i presidenti, tutti i presidenti di regioni, compresi quelli di centrodestra, ma anche il nostro presidente Gianni ha sollecitato il governo affinché le graduatorie che riguardano il comparto del settore sanitario, compreso quindi la graduatoria Oss, potrebbero avere una proroga di un anno. Questa notizia è una notizia positiva, certo non è una notizia finale, non diciamo che abbiamo vinto la nostra battaglia, diciamo semplicemente che siamo contenti di aver fatto cambiare idea alla Giunta Gianni, all'assessore Bezzini e al Partito Democratico. In un primo momento ci era stato detto che che la graduatoria andava bene così, che non ci sarebbe stata la proroga, oggi scopriamo grazie a Forza Italia, grazie al nostro impegno che su quella graduatoria invece il governatore Gianni ha chiesto una proroga di un anno. Ma l'assessore ha ribadito il concetto, cioè la possibilità di scorrere la graduatoria o comunque di mantenere in vigenza la graduatoria oltre i due anni consentiti attualmente dalla legge spetta a livello nazionale che deve appunto intervenire su una norma, prorogando di almeno un anno, richiesta che la Toscana ha già avanzato e che è stata fatta proprio anche dalle altre regioni. Dopodiché chiaramente c'è tutto un lavoro che riguarda vincoli che risiedono ancora sul livello nazionale rispetto ai tetti di spesa e anche ai numeri assunzionali che ancora oggi risaliamo al governo Berlusconi e al ministro Brunetta sono stati posti rispetto a un limite economico che risale addirittura al 2004. Quindi l'impegno della Toscana è forte di tutta la Giunta per eliminare questi tetti che ancora esistono e che chiaramente incidono sulla graduatoria per gli OSS come sulla possibilità di ulteriori assunzioni di personale. Proseguono le visite della Commissione Bilancio, dell'Assemblea Legislativa e del garante regionale alle carceri della Toscana Giuseppe Fanfani per indagare sulle emergenze del sistema penitenziario. Dopo gli istituti di Sollicciano e Massa è stato il turno del carcere di Volterra dove nell'occasione si è unita una delegazione della Commissione Istruzione e Cultura. La visita è proseguita nel giardino dove sono già pronti i terreni per le prossime culture, poi al teatro dove il regista Armando Punzo ha ripercorso la storia, i contenuti e le attività messe in campo con la proiezione di un interessante cortometraggio. Un'esperienza molto significativa quella che ho potuto fare come Presidente della prima Commissione del Consiglio regionale oggi al carcere di Volterra. Un'esperienza inusuale perché Volterra ci offre una testimonianza della vita detentiva del tutto diversa da quella che si può riscontrare in altri istituti della nostra regione. Qui c'è una concezione del detenuto che vede innanzitutto l'individuo con i propri diritti, con la propria personalità e anche con quel bisogno di rieducazione che è insito anche nella detenzione. È un luogo, il carcere di Volterra, dove si sviluppano moltissime attività collaterali. Prima tra tutte quella splendida dell'esperienza teatrale che è un modo non soltanto per rieducare i detenuti ma è soprattutto un modo per favorire la cultura anche in questo istituto, in una città che è stata anche la capitale della cultura e che ancora oggi ci dimostra come si possa fare cultura anche in un istituto di pena. Un vero e proprio sollievo anche per chi rappresenta le istituzioni, vivere questa esperienza all'interno di un carcere che ha molto da insegnare a tutto il sistema carcerario italiano. Devo dire che abbiamo queste esperienze di visita nei carceri, sono esperienze di grande umanità e anche di scoperta di che cosa è e quanto lavoro richiede a livello organizzativo, a livello anche di disponibilità emotiva del personale coinvolto. Quindi devo dire che il carcere di Volterra potrebbe tranquillamente essere un modello di detenzione con finalità trattamentali ed educative di altissimo livello, vorremmo che fossero tutti così, non solo in Toscana ma anche in Italia, purtroppo lo sappiamo che non è così, intanto siamo grati per questa bella esperienza che comunque ha bisogno di cura, di assistenza, di organizzazione, di logistica come tutta la dimensione carceraria anche nella nostra regione che ha queste punte di eccellenza. Talento, tenacia, forze e determinazione a voler far sempre meglio. Questo è Alessandro Dressadore, giovane pistoiese, protagonista dei recenti mondiali di sci alpino per diversamente abili, che ha ricevuto una targa del Consiglio regionale come esempio per la Toscana tutta. Sono davvero orgoglioso oggi di premiare Alessandro Dressadore. Il premio ad Alessandro è un premio all'impegno, alla voglia di farcela e il riconoscimento per portare in alto, in Europa, nel mondo, il nome della Toscana. Le due medaglie di bronzo conseguite quest'anno nei mondiali di sci alpino danno il senso delle qualità di Alessandro. Allora, questo premio non è un punto di arrivo, vuole essere per lui un punto di partenza. Speriamo di rivederlo qui a festeggiare risultati ancora migliori. Cosa devo dire di Alessandro? Vabbè, che è una forza della natura innanzitutto. Mi emoziono sempre a dirlo. Ha due genitori che gli danno la possibilità di fare tutto quello che gli piace fare. Sulli sci è molto dotato, devo dire. Noi come... Io alleno dei normodotati e Alessandro. Nella solita maniera, anzi lui tante volte mi è d'esempio, per ragazzini molto bravi, per come la giornata affronta la lezione con noi e suggerimenti che gli diamo. Lo sport è stato il trampolino di lancio per inserirlo nella società. Questo lo ha aiutato moltissimo perché lo sport necessariamente ha regole. Lo sport fa apprezzare i compagni, riesce poi a rispettare gli avversari e soprattutto rispettare se stesso. Quindi tutte le regole che riguardano l'alimentazione, tutte le regole che riguardano la preparazione, tutte le regole che sono necessarie per poter fare ad alti livelli, perché a questo punto bisogna riconoscergli che sono ad alti livelli tutta la sua attività. Io sono della montagna e quindi mi è sempre piaciuto che Alessandro potesse fare uno sport invernale e che potesse apprezzare la montagna. Abbiamo lavorato tanto sull'autonomia, ma lo sport è stato quello che ha dato ad Alessandro quella spinta in più per migliorarsi e essere socialmente preparato ai vari gruppi che avrebbe incontrato nelle vita. Grazie mi hanno spinto anche al narratore andare il meglio possibile. Per essere spinta la forza di riuscire ad andare avanti e più allineamenti. Nella prossima mondiale speriamo che la vinciamo ancora e deve essere ancora più forte, deve essere più intenso e cercare di far meglio possibile. Grazie a tutti.